Il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca Joachim Gauck hanno inaugurato lo scorso 12 dicembre con una cerimonia al Teatro Regio il Tavolo di Dialogo Italo-Tedesco. L'incontro ha inteso rafforzare i rapporti già esistenti tra le due nazioni sulla base della condivisione di valori storico-culturali ed interessi economici.